e sono ragazzi una lingua storia si vincere chi parla siamo ritornati questo video allora ragazzi oggi siamo ragazze di foggia palermo prima di posire il palermo hanno fatto una stricione rispetto a lealtà un saluto a foggia anche foggia saluta palermo con rispetto a lealtà e anche un saluto a palermo comunque una partita tra cugine e palermo io spero che il foggia venga per andare almeno 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 due dalla classifica ma quando lo potete non fare ci sono non è che mi frega tantissimo cioè vabbè avete capito ecco comunque andiamo a meno 3 poi se vediamo anche con l'altra andiamo a 0 vabbè ci vediamo dopo ragazzi è iniziata foggia palermo ci vediamo dopo 1 a 0 per il foggia e poi con la posizione voleva provare un'altra invece non c'era uscito e io ho visto solo che la balla è andata da dentro ma comunque 1 a 0 per il foggia voglio vedere questo gol lo vediamo lo vediamo lo vediamo i soliti misti alla craga è un po' mamma mia non ha avuto il tempo di prepararsi ma non c'è non l'ha vista all'ultimo 1 a 0 ovunque ragazzi aspetta ragazzi finisce finisce primo tempo di foggia palermo un po' non posso mangiare oggi il compleanno di mia madre allora comunque primo tempo il foggia sta giocando molto bene poi bellissima goal di crackle ovviamente è una delle suoi questi gol ci dobbiamo iniziare secondo tempo ragazzi è iniziato il secondo tempo di foggia palermo non ce l'ho dopo e la palla è dentro pareggia il palermo 1 a 1 albino a zaccheria la toccata salvi di testa prima che potesse arrivare la parata di albano pisarri allora possono esultare i tifosi del palermo arrivati circa 100 dalla sicilia vediamo un po' questa è la palla dentro forse la tocca per ultimo camporese prima salvi e poi camporese prima salvi e poi camporese vediamo se 2 a 1 palermo 2 a 1 palermo ribalta il punteggio il palermo ancora una reazione rabbiosa d'orgoglio di grinta di carattere del palermo traicoloschi fa 2 a 1 mai lasciare tutto quello spazio ad alexander traicoloschi e trova la porta ma non c'è troppo spazio ma uno che gli fa 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 contro la stagione il pallone però e che caso tutto libro l'hanno lasciato c'è guarda tutto libero tutto libero il palermo prende se la fa la prima vittoria in questo campionato si prende 3 punti importantissimi da grande squadra batte e ribalta un